segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ascoltavo con interesse la tribuna politica pensavo fosse una trasmissione d'informazione ho sbagliato e me ne vado un attimo un attimo un attimo non dica così non dica che le faccio una domanda secca se dispiaciuto del voto di capitan 10 monti allora le rispondo molto semplicemente è meglio è meglio che un governo lasci ai governi precedenti 100 miliardi di meno entrate o faccia una politica seria e garantisca una crescita strutturale al paese la risposta ovviamente è meglio fare una politica seria e garantire un futuro strutturalmente certo ai governi precedenti ciò detto devo fare un po di chiarezza perché lì c'è stato un po di cabaret allora il 22 temi fondamentali uno sulla sanità sulla sanità sono ben contento che finalmente soprattutto il pd abbia cambiato idea perché mi ricordo benissimo trasmissione come queste negli anni dal 2013 al 2018 quando il il mantra era bisogna tagliare la sanità tant'è che si è tagliata la sanità in quegli anni dal 2013 al 2018 meno meno mezzo punto di pil oltre 50 miliardi di tagli in sanità dopodiché venne la pandemia no prima della pandemia il governo conte 1 ha interrotto questo calo poi viene la pandemia e va bene la pandemia i numeri non contano adesso ci rendiamo conto che la sanità una cosa importante bene questa cosa è molto positiva però vede un cambio di impostazione non solo da parte della sinistra che voto compattamente quei tagli in quegli anni dal 2013 con renzi letta gentiloni e tutta la sinistra compatta voto italia in sanità ha cambiato idea bene adesso in questo governo metterà più miliardi possibili in più in sanità io non so dire oggi quanti miliardi in più saranno ma sicuramente sono miliardi in più in sanità anche risolvendo dei problemi che ereditiamo come quello per esempio del payback dei dispositivi medici un po complicato spiegarle in due secondi però una manovra anche quella voluta dal pd che ha creato un caos enorme nel settore sanità nella fornitura delle attrezzature mediche che sono fondamentali per garantire un servizio di qualità tant'è che questo governo ha già messo un miliardo e mezzo per risolvere questo problema ma non basta quindi ok c'è un cambio netto di rotta sulla sanità anche da parte dell'informazione devo dire perché non c'è più il mantra bisogna tagliare la sanità tutti d'accordo aumentare i fondi sanità bene è una delle cose fondamentali che si fanno ecco volevo dire questo diciamo che il covid da questo punto di vista un po cambiato ma proprio la prospettiva completamente su quello su quello che è il problema della sanità del nostro paese poi ci sarebbe da dire poi ci sarebbe da dire qualcosa sul patto di stabilità perché giustamente bisogna rivedere il patto di stabilità in europa però una nota di ottimismo la germania e se a mi avviso più disponibile a discutere il tema anche perché la locomotiva è ferma la locomotiva tedesca si basava sul basso costo dell'energia che arrivava dalla russa che non dalla russia che non c'è più adesso è cambiato il quadro certo e la francia e la francia è strutturalmente con un deficit di bilancia commerciale quindi non è poi vero che è messa meglio dell'italia l'insieme delle due cose a mio avviso consentiranno di trovare un accordo allora un attimo l'agenzia perché pro bonus facciate in sequestro